Ieri abbiamo assaggiato per la prima volta la patata lunare e devo dire che il sapore non è affatto male paragonata alla rapatonna. Certamente non assomiglia a quella che mangiavamo sulla nostra amata terra, ma già il fatto che dopo diverse manipolazioni siamo riusciti a friggerla senza che esplodesse mi fa bene sperare per il futuro. Sicuramente va risolto il problema dell'eccessiva impermeabilità visto che non riusciamo a farci rimanere attaccato il ketchup al pomodoro perché è troppo grande. Oh allora com'è? Ehi ragazzi ho sentito lo scoppio, ci cena? Ciao!